Il tema conduttore delle mie opere è la vista, la vista che viene fuori o dal niente, come nel caso del quadro dei pensieri dove l'occhio viene fuori dall'infinito, dal cielo, oppure nasce dalla donna, datrice di vita per eccellenza. Il qui sono quadri a olio, quando uso l'olio la mia pittura è più meditata, al contrario dell'acquarello che invece la pennellata deve essere più spontanea, più rapida. È diverso per me usare l'olio e usare l'acquarello, perché se uso l'olio c'è un maggior studio. Sono dei colori che uso molto, il blu oltremare lo utilizzo in tutte le marine, e il mare è uno dei miei soggetti preferiti e la terra di Siena bruciata è la terra delle nostre campagne e quindi allude anche a dei paesaggi che sono paesaggi prettamente vicini a Siena, insomma, dei nostri posti. C'è una cosa che mi ha detto una volta mia madre, perché io ero molto titubante all'inizio, avevo tanta paura, perché avevo paura, esponendomi al pubblico, diciamo che potesse andare male, potevo ricevere delle critiche molto grosse che magari mi avrebbero scoraggiato e la mia mamma mi disse una cosa che, devo dire, ha avuto molta importanza, perché mi ha detto che quello che puoi dire te non lo può dire nessun altro, cioè quello che c'è dentro di te ce l'ha solo te, quindi se non lo dici resta non detto. Grazie a tutti.